I furti di rame sono l'ultima frontiera degli affari criminali. L'hanno ribattezzato l'oro rosso e l'incremento del fenomeno dei furti conferma il valore sul mercato di questo materiale. Altrettanto intensa è l'attività di contrasto da parte delle forze dell'ordine. L'ultimo ritrovamento di rame di provenienza furtiva è avvenuto in una strada di campagna che interseca la provinciale 231 tra Molfette e Terlizzi. Ad individuare un automezzo carico di cavi di rame è stata una pattuglia della tenenza della Guardia di Finanza di Molfetta durante i servizi di controllo. L'intervento immediato da parte dei militari delle fiamme gialle non ha consentito di fermare gli occupanti del mezzo. Loro hanno abbandonato il veicolo con le portiere aperte e il motore acceso. All'interno i finanzieri hanno trovato una tonnellata di rame ma anche attrezzi utilizzati per asportarlo. Le indagini hanno permesso di accertare che il mezzo era stato rubato il 29 gennaio scorso a Capurso mentre il furto di rame era stato compiuto all'interno di un'azienda tessile di Terlizzi attualmente chiusa. Se l'automezzo e la tonnellata di oro rosso sono stati posti sotto sequestro non si fermano le indagini per risalire ai responsabili del furto.